Uno studente di 20 anni originario di Pescara è stato vittima questa notte di un'aggressione in pieno centro a Rimini. Era l'1.30, il giovane che stava rincasando mentre attraversava da solo Piazza Ferrari è stato avvicinato da un uomo di colore, alto e ben piazzato. Lo straniero gli ha chiesto una delle birre che il ragazzo aveva con sé, offrendogli in cambio della marijuana, dalle buone alle cattive. A rifiuto lo straniero ha minacciato prima il suo interlocutore, poi lo ha aggredito. Nella colluttazione il ventenne è caduto su una bottiglia, procurandosi lievi ferite. L'aggressore a quel punto ha cercato di fuggire, nascondendosi in una delle gallerie che si affacciano su Piazza Ferrari. Il ragazzo, nonostante le ferite, in attesa dell'arrivo della polizia, ha avuto la lucidità per tenere d'occhio le due uscite della galleria, controllando che l'aggressore non tentasse la fuga. A loro arrivo gli agenti hanno trovato lo straniero nascosto in una nicchia. Con la polizia in Piazza Ferrari è arrivato anche il 118 che ha medicato il giovane sul posto. Per lui ferite da taglio ad una mano e un gomito, ma non ha voluto farsi portare al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. L'aggressore, un 41enne del Senegal, è stato arrestato dalla polizia per rapina impropria. L'uomo risulta avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, inoltre anche irregolare sul territorio italiano. Quando siamo di fronte alla collaborazione del cittadino che, come in questo caso, si tratta di un giovane studente che non ha voluto sottostare a un atto di prepotenza, di prevaricazione da parte, in questo caso, di uno straniero, ecco, allora, in questo caso, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine, si riesce in sinergia ad effettuare un intervento, ecco, direi alquanto efficace, come appunto nella circostanza della quale stiamo parlando, quando l'autore della rapina, di quella che poi è divenuta una rapina, è stato assicurato alla giustizia, tratto in arresto.